Buonasera. Stasera è la vigilia della festa del sacrificio. Si chiama Arafah e si fa il digiuno. Come vedete il tavolo è pieno e naturalmente è uguale al Ramadan. Sono una piscina ad una piccola al video. Sono una piccola, non ci sono state di ammigione, non sono state di ammigione. e mi chiedete, non ho parlato. E' un'altra cosa. Come si può vedere, beviamo il tè per prima cosa perché è quello che fa molto bene e il calore lo rimanda indietro. Diciamo, pur essendo caldo il tè. E' importante, come si vuole il gioco un uomo, è importante l'uomo che si vuole il gusto. Buonissimo! Sì, buono davvero. Volevamo il uomo che buonanze e se abbiamo chiamato la ciotola, quindi, la ciotola ha fatto molto alla ciotola, la ciotola ha fatto il matalì nel basso del borsetto. Quanto lo conoscono l'uomo che si fa inizialmente. E' la tua ciotola e quella torta che si conosciuga. c'è un po' di spettacolo c'è una buona e il bianco c'è un po' di brano il c'è un po' di rispettazione ma non è riuscata ma se fosse un po' di rispettazione il bianco, il bianco e il bianco il bianco, il bianco, il bianco Grazie per la visione Ah, finalmente è stato veramente bene oggi un po' di sede però naturalmente non vale la pena è stato molto bene questa è la visione e voglio che vi raccontate questo video e viaggiare al prossimo Buongiorno Buongiorno Buongiorno